Jabra Beads 2300 è stata sviluppata appositamente per i call center e per un utilizzo intenso. Il Jabra Beads 2300 è disponibile sia per telefonia che in versione USB, mono e biaorale e dispone di un microfono a cancellazione di rumore. Oltre al resistentissimo braccetto portamicrofono orientabile a 360 gradi e al cavo rinforzato in Kevlar, il microfono è dotato di una particolare struttura aerodinamica con diversi piccoli fori e il suo interno è foderato in gomma piuma. Grazie a questi accorgimenti si riduce così il rischio di disturbi causati dal respiro, migliorando la qualità della chiamata.